Bene, hai iniziato a vendere su ebay, ma c'è un problema Hai pochi feedback o non ne hai affatto Quindi le persone non si fidano ad acquistare da te Come facciamo a risolvere il problema? Oggi ti sbererò tanti mini trucchi Per aumentare velocemente i feedback del tuo account ebay Quindi resta qui Ragazzi bentornati, eccoci qua con un nuovo video Oggi si parla di ebay e nello specifico dei nuovi o comunque semi nuovi venditori Un problema comune quando si inizia a vendere su ebay O semplicemente si apre un altro negozio su ebay, un altro account E' quello dei feedback Ci ritroviamo quindi con un account con zero feedback O comunque pochi feedback Dove ovviamente vogliamo andare a vendere migliaia e migliaia di euro a settimana O perlomeno lo scopo è quello Quindi come fare a aumentare velocemente questi feedback Visto che inizialmente potrebbe esserci un grosso problema Ci sono diversi modi che oggi ti spiegherò per accelerare questo processo Prima di tutto ragazzi dobbiamo capire Che non possiamo avere i feedback da parte di tutti quanti gli acquirenti Mediamente riceveremo i feedback Se ottimizziamo tutti i processi come ti spiegherò ora Riceveremo i feedback circa il 30-40% delle volte che vendiamo Questa percentuale è comunque una percentuale già accettabile E che ci permette di avere un account che cresce in modo buono E che si riempie di feedback Se invece non andiamo ad ottimizzare il nostro processo di feedback E di comunicazione con il cliente La percentuale può scendere fino al 10-20% Quindi è una grossa differenza E' vitale prendere i duri accorgimenti Che dall'altro sono molto molto semplici Andiamo a vedere ora Per aumentare e ottimizzare questa percentuale di feedback ricevuti Più feedback significa più fiducia della piattaforma ebay Più fiducia dell'algoritmo Più fiducia degli acquirenti Ma significa anche creare uno storico più forte dell'account Avere i limiti di vendita aumentati in modo più veloce E in modo più alto Significa crescere il nostro asset In caso di rivendita del business O in caso di rivendita dell'account Un account da 2.000 feedback Vale molto di più di un account da 100 feedback Quindi è importante prendere i duri accorgimenti Per avere un'ottimizzazione di feedback ottimale Ma cosa possiamo fare? La prima cosa ragazzi Molto semplice Lascia i feedback agli acquirenti Io vedo che molti venditori non lasciano i feedback agli acquirenti E ci sono molti acquirenti che non lasciano i feedback ai venditori Se prima non ricevono i loro feedback O comunque Non ricevono la notifica O comunque non si accorgono che il venditore ha lasciato i feedback Quindi non li lasciano e non li cambiano Perché non ci pensano Come? Cosa fare quindi? Sotto questo aspetto Ebay è molto semplice Ti permette di avere Un processo di rilascio feedback agli acquirenti In modo automatico Ogni volta un acquirenti acquista da te Devi semplicemente andare sulla dashboard Ebay.it Slash sh Slash O V W Trovi il link in descrizione Scendere nel blocco Dedicato ai feedback E ci sarà una voce Feedback automatico Entrando lì potrai configurare i tuoi feedback in maniera automatica Da lasciare ai clienti Potrai mettere una serie di messaggi standard E ebay molto random li mette dagli acquirenti ogni volta li acquistano Solo questo dovrebbe darti circa un 10-15% di feedback ricevuti in più da parte degli acquirenti Quindi è molto importante Numero 2 Chiedi i feedback ai clienti Molti non chiedono i feedback ai clienti perché si spaventano di disturbare i clienti O invastidirli Ragazzi non c'è nulla da invastidire Anzi è un servizio a cliente maggiore E che non devi contattarli e dirgli Ehi lasciami il feedback No Il tuo contatto deve essere qualcosa Per assicurarti che l'ordine sia arrivato a destinazione Che non ci siano problemi E sarai felice di lasciarti un feedback di soddisfazione Ok Questa deve essere l'impostazione Per chiedere i feedback agli acquirenti Quindi una cosa che potresti fare è Al momento che l'articolo è stato consegnato con successo all'acquirente Impostare un messaggio che gli manda solo dopo che è stato consegnato Ragazzi è importante chiedere il feedback solo dopo la consegna Che dopo che il tracking risulta consegnato Quindi oltre che il tracking risulta consegnato Inviare un messaggio all'acquirente con un format tipo Abbiamo visto che hai ricevuto il nostro articolo Grazie per aver acquistato da noi Se hai qualsiasi problema offriamo una garanzia di 30 giorni E siamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di supporto Se sei stato soddisfatto Dei tempi di spedizione dell'articolo Lasciaci un feedback In questo modo ci aiuterà a crescere il nostro negozio su ebay Questo potrebbe essere un format vincente Su come richiedere un feedback Ora voi vi starete chiedendo Se dovete mandarlo manualmente A cercare il tracking manualmente degli articoli Come sapete a me piace l'automazione Ed è una cosa che io insegno in questo canale Tra l'altro iscriviti Metti mi piace al video Iscriviti al canale Così resti aggiornato Quindi una cosa che spiego sempre È di automatizzare tutti i processi possibili Nelle piattaforme marketplace come ebay Perché è possibile farlo Ne parlo abbondantemente anche su ebay Az, il mio corso ebay che trovi in descrizione Quindi come facciamo ad automatizzare Possiamo usare dei software esterni Per esempio uno di questi è TrackerBot È un software di conversione e tracking Ma ha anche un'altra funzione Una funzione di questa è Sia lasciare il feedback automatico ai clienti Sia mandagli dei messaggi di Remind Dei messaggi in base allo stato dell'ordine Può mandare quindi un messaggio subito dopo l'acquisto Un messaggio quando l'articolo viene spedito E un messaggio quando l'articolo viene consegnato In questo modo potrete anche avvisare il cliente Quando l'articolo viene spedito in maniera automatica E ringraziarlo quando ricevete l'ordine Quindi metterete nel messaggio di automatico Quando l'articolo viene consegnato Potete settare ad esempio di mandarlo dopo 2-3 giorni alla consegna Questo messaggio di richiesta feedback Ok? Questa è molto molto importante E crescerà tantissimo i feedback che voi ricevete Un'altra cosa che potete fare per aumentare i feedback ragazzi E acquistare Non concentratevi solo sui feedback da venditore Anche i feedback acquirente sono importanti Perché crescono il vostro rating Tra l'altro un altro motivo per volere tanti feedback E il rating Un feedback negativo Se ne hai mille positivi Ti impatterà solo lo 0,1-0,2% di rating Ma se ne hai 100 positivi Ti impatterà circa il 2,5% Quindi c'è una grossa differenza Quindi questo è anche molto importante Quindi acquistate Utilizzate ebay anche per acquistare Acquistate articoli di basso costo Anche se non vi servono Un investimento Anche se un feedback lo pagate 2-3 euro Va bene O acquistate cose che vi servono Usate ebay come fornitore per vendere su altri marketplace Per esempio io vendo su NewEgg E uso ebay come fornitore Questo mi dà vantaggi Perché nel frattempo io vendo su NewEgg E uso ebay come fornitore Costruisco account ebay Da convertire come venditore in un giorno Ok? Seguite la logica Cerchiamo di ottimizzare le nostre risorse Quindi cerca di fare tutto quello che puoi Un altro modo è di mettere dentro il pack Un messaggio di richiesta feedback Ok? Se lo utilizzi fornitori esterni come Amazon Come Walmart Puoi includere un messaggio di auguri Ok? Si chiama così Che non è altro che un bigliettino dentro il pacco E potrai chiedere di lasciare un feedback nel negozio Poi Bonus ragazzi Mettere anche un coupon dentro Generare un coupon del 5-10% Ringraziandoli Dandogli il coupon Così avete anche un cliente che torna ad acquistare da voi Ok? Questo è un altro trucchetto Non relative ai feedback Ma mentre ci siamo Ve l'ho dato Quindi ragazzi Questi 4 modi Vi permetteranno di aumentare esponenzialmente I feedback nei vostri account E avere account da migliaia e migliaia di feedback Questo è molto importante Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Mettete mi piace E se volete contattarmi Trovate il mio Instagram e la mia email in descrizione Ciao ragazzi Alla prossima